Il miglior venditore dell'anno! Grazie, piccolo! A vita, papà! Cambia gli scoperfianti! Se tu quest'anno mi prendi tutti i dieci, ti regalo una vacanza da sogno. Dove lo porti, che non c'è una lira? Mi fa parlare con la maestra? Abbassiamoli almeno la condotta! Senta, mi vuole ascoltare un momento. La ginnastica. Non mi ascolta. Guarda dove andiamo. Vedi che questi sono posti bellissimi? Cusi, se un papà porta qui il bambino in vacanza... È un coglione! Grazie! Bambino, come ti chiami? È un anno che Lorenzo non parla con nessuno. Lorenzo. Perché non vi fermati qui? No, non posso accettare. Gratis? Sì. Accetto. Filippo, Pino, mi portate un cocktail per cortesia? Portello di zucca in salsa di pistacchio. È cotta, la puoi scuola? Occhio che quello è uno sgamato, eh? Hermes, mia moglie. Molto lito. Lei è mia figlia Olga. Scusi, non è... No. E lei è... La nonna! Stop! Che senso avrà questo sole al tramonto Se torno a casa e non trovo pronto Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità. Perché, guarda lì, Nicolò. Quella è la felicità, papà! Nostra caca! Super papà!